Per caso qua abita Roberto Magro? Che cazzo ci fai qua bro? Mi raccomando guardate questo video fino alla fine perché secondo me ne vale davvero la pena Buon day! Benvenuti in questo nuovo video, oggi sono tornato qui a Milano sono nella mia casetta mi raccomando lasciate già un bel mi piace oggi sono qui per fare un video molto importante, un video a cui tengo molto perché ho intenzione di fare una sorpresa al mio migliore amico, commentate già con hashtag petacolo, come avrete notato se mi seguite su Instagram ovviamente se non mi seguite Giuseppe trattino basso, trattino basso barbuto appunto sto dicendo che avrete notato che io e Roberto non ci stiamo vedendo da un po' lui perché ha incominciato la scuola, abbiamo diversi impegni, abbiamo passato praticamente tutta l'estate insieme, tutti i giorni assieme, quindi mi manca tanto quindi cosa ho deciso di fare? Ho scritto a sua mamma e le ho detto che voglio organizzarle una sorpresa senza dire niente a Roberto oggi prenderò la mia macchinina, vado a Brescia, visto che lui si è trasferito a Brescia e andrò a trovarlo senza dirgli assolutamente nulla ritengo questo video molto importante perché penso che sia un gesto molto semplice, cioè non ci vuole nulla prendere e andare a trovare il proprio amico ok? Però penso che sia una cosa bella da fare perché Roberto non se l'aspetta e sicuramente sarà felicissimo di vedermi e quindi il consiglio che vi do è che se ne avete la possibilità cercate sempre anche con cose semplici di fare delle sorprese a chi volete bene perché fidatevi che fa star meglio sia voi stessi che gli altri se siete nuovi iscritti quindi vi siete iscritti durante questo video o vi iscriverete durante il video mi raccomando fatelo commentate con hashtag nuovi iscritto perché come al solito vi metterò un cuoricino e vi darò personalmente il benvenuto nella Barbuz Family visto che devo aspettare tutta la mattina io ho trovato un ottimo passatempo ovvero nerdare praticamente giocherò a game che è un'applicazione che trovate su android o semplicemente potete andare sul sito vi lascio il link in descrizione sto per giocare a Karate Kid 2 io in genere gioco o sul computer o sul telefono di mia mamma perché è android perché su ios ancora non c'è però tipo ho fatto un magheggio l'ho craccato e adesso sto giocando sul mio iphone vi lascio anche il mio profilo così potete sfidarmi possiamo giocare assieme a me gaso un botto giocare insieme a voi anche sulla playstation ogni tanto gioco con voi quindi partiamo ecco sono già morto ok mamma mia raga sto per fare il record sono morto però fa tutto il record cioè il mio record perché di solito voglio dopo due secondi stavolta invece sono riuscito a sopravvivere e niente raga io passo il tempo così quindi se volete giocare anche voi insieme a me vi lascio il link in descrizione il mio nickname è Giuseppe Barbuto mi trovate mandatemi le sfede che giochiamo uno contro uno facciamo le battaglie tanto come vedete sono scarsissimo quindi potete giocare tutti con me sento un rumore strano là dietro secondo me c'è qualcosa c'è tipo qualche animone ah no la mia felpa petacolo quanto è bella mi raccomando ragazzi in descrizione trovate il link del sito per acquistare la vostra felpa petacolo raga mi stavo prendendo malissimo perché mi era entrata un'ape in casa e non riuscivo a tirarla fuori e tipo io ho stra paura delle api cioè ho proprio paura che mi pungano non si devono avvicinare ok raga sto per andare da Roby non vi prendete male se mi vedete con la felpa ma vi giuro che in questo momento fa freddo so che sembra che faccia caldo perché c'è il sole ma sto gelando però sicuramente dopo me la toglierò perché quando sarà arrivato sarà tipo saranno le due e quindi farà già più caldino ok siamo sulla mia macchinina raga siamo per andare da Roby e ho un po' d'ansia raga vi giuro cioè non vedo l'ora di vederla a sua faccia quando mi vedrà raga sono appena arrivato sotto casa di Roby adesso li suoniamo lui ovviamente non sa nulla gli ho nascosto anche le storie su Instagram adesso li suoniamo speriamo sia a casa ovviamente mi sono organizzato con sua mamma quindi nel momento in cui io suonerò adesso farò scendere lui e dire tipo vai a vedere chi è e ci sono io ok 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 ma non ha aperto qua abita Roberto Magro per caso per caso qua abita Roberto Magro che cazzo ci fai qua bro sono venuto a trovarti bella frate tutto bene? si tutto bene questo è venuto fino a Brescia sono venuto frate sei pure registrato si sono facendo un vlog sorpresona mi sono piacere grande Giuseppe che mi viene a trovare mi fermo da te fino a domani va bene ti sei già organizzato con si con tua mamma lei sa già tutto ciao grazie orellina oh ma che bello grazie frate grandissimo frate sono contento ragazzi il video termina qui spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel like iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video perché ogni due giorni esce un nuovo video vi mando un bacione ciao a tutti comunque Roby ci è rimasto proprio raga era contentissimo ciao 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 ciao